Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, altro gameplay su Starbound. Oggi andiamo a provare a battere il boss. Sembrerebbe fondamentale magari sapere usare sti stramaledetti corde. E adesso io non posso più tornare su, quindi il problema è che il boss me lo devo battere. E cercheremo di scoprire anche se la vita del boss è calata o meno dopo queste ultime avventure. Allora abbiamo detto che questa pistola qui sembrerebbe essere ottima. Abbiamo full vita, quindi vediamo che cosa riusciamo a fare, se riusciamo ad abbattere qualcuno. Adesso vediamo se si abbatte sto tizio. Ah ok però è utile perché, ok ottimo, abbiamo sbloccato della carne. Abbiamo preso anche delle fibre, le fibre si prendono normalmente uccidendo i mostri. Quindi dovremmo aver fatto abbastanza... Ok qua si entra e non si scherza più. La vita si l'ha tenuto buona quella di prima, quindi ce l'abbiamo fatta, cioè ce l'abbiamo fatta relativamente. Dovremmo riuscire ad abbatterla, la mamma qui. Ricaricati per Dio! Ok, battuta. Adesso non resta altro che finire il lavoro. Mi scusi! No 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 no. Vabbè a questo punto vediamo. Ok. Ce l'abbiamo fatta, dice di usare il tricorder adesso su... Non so bene cosa, adesso lo tiro fuori appena finisco di pulire qui. Molto bene. Ok. Allora. Use the tricorder. Dov'è il tricorder? Devo ricordarmi che avevano messo. Che è quello blu. Allora. Tricorder. Dove cacchio sei? Ho preso anche questo che è sangue. Allora scusate eh. Io adesso sono qua dal bosso. Use the tricorder. Eccolo qua. Ok. E' questo qui no? Beh. Non ho ben capito cosa mi ha detto di fare comunque. Adesso finiamo il lavoro che abbiamo cominciato. Sono veramente inguardabili sti mostri qua. Comunque è morto dai. Buono. Eccolo qua dai. Adesso completiamo. Ok abbiamo sbloccato la zona di qua. Beh allora abbiamo battuto il boss. Spero sia finito adesso. Eeeh. Ma ho la corda. Ah 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 ah. Eeeh. Oop. Possiamo farne solo una? Eh sì. Solo una. Quindi. Speriamo di non buttarla via. Vediamo se la riusciamo saltando. A prenderla. No. Ah 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 ah. No. Non si. No. Non usciremo probabilmente mai da qui. Niente. Dobbiamo andare in giro a cercare delle corde. Ah ah ah. Niente. Ok. E non si arriva. Perché dovevamo aprire il ponte. Va bene. Usciamo. Adesso. Ufficialmente dovrebbe essere finita l'istanza. Eeeh. D'accordo questo messaggio. Vicino all'antico cosa qui. Core fragment. Entra i corda. Abbiamo preso una pistola che fa lo stesso danno. Altre cose da prendere. E si va verso il portalone. Qua. E si accende. 22 fragment li abbiamo presi. Il portale è stato attivato. E grazie al tuo aiuto. Vinalisi. Ense. Eeeh. Design. Propriet. Ok. Mi viene dato un aiuto. Eeeh. Ha trasmesso la location. Dell'outpost di scienza. Eeeh. L'abbiamo segnato sulla nave. La navigazione della nave. Perfetto. Quindi. Grazie per aver investigato per me. Il tuo aiuto è stato profondamente apprezzato. Per ringraziarti. Eccoti queste coordinate. Va bene. Perfetto. Abbiamo fatto tutto quello che bisognava fare. E qua c'è un segreto. Sì. Perché ci sono altre cose da prendere. Eeeh. Abbiamo preso un po' di roba. Che magari provvederò a vendere. Magari metteremo via. Ok. Possiamo andarcene. Finalmente. Lasciando questa missione. Resetterai il tuo progresso. Ma io ho... Beam down. Però... Ok. Eeeh. Niente. Sì. Credo che ce ne dobbiamo dare. Da qua no? Perché credo che qui sia finito. Sì. Infatti. Infatti. Niente. Ce ne andiamo. Penso. Perché qua non... Non credo. Ah no. Posso scegliere la destinazione. E ce ne andiamo direttamente sull'outpost. Allora. Sull'outpost. Credo. E la nave poi sarà dove sarà. Sì. Infatti. Infatti è questo. Io me lo ricordo. Perché è un outpost all'interno sempre di questo sistema solare. Eeeh. No. Mi so che direi finito. Vediamo se c'è un... Non c'è una mappa o qualcosa. No. Però siamo da tutta l'altra parte adesso. Quindi... Lessi. Buongiorno. Sì. Infatti. Infatti. Qua è il classico mall. Dove si acquista. E si vende di tutto. Si prendono missioni. E si può fare qualsiasi cosa. Qua. Poi pian piano apriranno i negozi. Di sopra c'è già una missioncina per noi. E possiamo iniziare ad andare a... A vagare per lo spazio. Questo chiede 10 copper bar. Magari le ho anche. Aspetta un po'. Ah. Questo vende anche altra roba. Dodge 2. Ah. Ok. Power jump. Non sarebbe male. Distortion sphere. Ah. Sì. È quello che ho io. Va bene. Non ho i copper. Quindi la missione mia resterà segnata qui. Let's get technical. È questo. Copper bar. Va bene. Torniamo sulla nave. E vorrei dare un'occhiata al mio... Membro della mia caroo. Che... Del mio equipaggio. Eccolo qui. Che ho preso. E posso portarlo con noi. E posso portarlo con me. Non so se morirà. Se dovesse morire. Che cosa succederebbe. Però... Questa è la nave base. E adesso forse abbiamo la possibilità di muoverci. No. Navigation offline. Vediamo il computer di bordo che è morto. Vediamo qua cosa dice. Usare l'interfaccia. Ok. Qua abbiamo... Ok. Qua è il riassunto di tutto quello che abbiamo. E anche... I beni di commercio. Addirittura. Quindi si può fare commercio. Attivi. Inattivi. Micellaneus. Abbiamo... Customization. Ah manca... Ok. Missioni. Visit Science Outpost. Ok. E probabilmente su Science Outpost ci daranno una mano per lasciare il pianeta. Niente. Io vi lascio. Questo era il terzo episodio. Molto veloce credo. Di quello che... In conclusione era la missione tutorial. All'inizio. La mod ha fatto vedere forse solo il 2% delle sue potenzialità. Tuttavia io adesso interrompo qui. Voi poi mi farete sapere se vi interessa il proseguire dell'avventura. Alla prossima ragazzi. E ciao ciao. Alla prossima ragazzi.